Dopo aver usato l'ipnosi regressiva, molti clienti non hanno più avuto bisogno di analgesici. Inoltre, mettere in luce il rapporto tra emozioni, disagio fisico e la loro origine in una vita passata consente di alleviare profondi problemi emotivi. Qualunque sia il segreto, gli effetti e benefici lasciano stupefatti. Jack, un quarantenne pilota di aeree, si rivolse a me per una serie di problemi a livello fisico. Era afflitto da emicranie, artrite, ipertensione e a livello psicologico reprimeva la sua irritazione per settimane per poi lasciarla scoppiare con rabbia. Inoltre, aveva problemi anche inerente a una determinata fobia monosintomatica molto particolare. Ogni mattina, mentre allacciava la cintura di sicurezza e si preparava per il decollo, guardava ansiosamente ripetutamente dal finestrino, osservando l'ala destra del suo velivolo come per accertarsi della sua presenza. Poiché era stato per anni pilota nell'aeronautica, prima di impiegarsi nel campo commerciale, Jack era molto affidabile e responsabile quando volava. Non gli erano mai capitate situazioni di emergenza tali da giustificare il suo stato di ansia, ma ogni mattina, al risveglio, il suo pensiero andava subito all'ala destra e alla possibilità che si staccasse proprio quel giorno. Jack, con l'ipnosi, rievocò una serie di vite passate seguendo sia la topologia classica sia quella dei momenti chiave. Durante la prima seduta ripercorse un'esistenza precedente in cui era un mandrino del vecchio West, morto schiacciato da un masso, mentre attraversava a cavallo un passo montuoso. Rievocando la scena del decesso, Jack ricordò la sensazione di soffocamento per poi passare a un nuovo momento saliente di un'altra vita. Se ti è piaciuto questo contenuto, clicca mi piace e iscriviti al canale cliccando sul fiore che trovi in alto nel video.